Tommi Maestrello, tre punti importantissimi per questo Bassano in questo inizio di stagione che a questo punto si può certificare un grande inizio di stagione che dà morale anche per il proseguimento. Sì, siamo partiti i Ford quest'anno, sono i primi tre punti in casa quindi siamo felicissimi sotto questo punto di vista perché come l'anno scorso non abbiamo mai perso in casa, quest'anno ci mancava la prima vittoria casalinga ed è arrivata e siamo contenti così. Gran primo tempo però poi nella sofferenza, nella ripresa tanta sofferenza e anche lì ci volevano degli attributi importanti come cuore, grinta carattere per venire fuori perché poi la Bionolef è cresciuta e forse poteva anche meritare il pareggio. Sì, la Bionolef secondo tempo è cresciuta, ha spinto, forse meritava anche di fare gol però sinceramente preferisco portare a casa tre punti così che non perdere come la prima giornata col Pavia in casa. Quanto è importante anche nello spogliatoio, anche per il morale, portare a casa partite così complicate? Le partite così ti danno forza veramente all'interno dello spogliatoio, all'interno della squadra perché è dimostrato che comunque possiamo vincere anche partite magari non meritando al 100%. Grazie Tommy. Grazie a voi.